Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, un santo pomeriggio a tutti. Ave Maria, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per la 37esima puntata del ciclo di Catechesi, il dono della Divina Volontà dedicata all'approfondimento di questo grande dono fattoci dal Signore per mezzo degli iscritti e dell'esperienza spirituale della serva di Dio Luisa Piccarreta. La volta scorsa vado subito al tema della nostra conversazione odierna perché come ricorderemo insomma la carne al fuoco è abbastanza e dobbiamo proseguire la lettura di quello spettacolare scritto a mio avviso uno dei più belli di tutta quanta l'opera, è assai illuminante, del 22 ottobre del 1926 che spiega in dettaglio quali tra i grandi miracoli saranno operati dal regno promesso del Fiat Supremo, tra cui quello che Gesù stesso ha chiamato il miracolo preservativo, cioè non semplicemente il togliere il male esistente ma il preservare dal male veniente, quindi abbiamo visto una volta scorsa che l'alimento preservativo impedirà di rimanere ciechi, zoppi e infermi e non permetterà alcuna forma di soggezione al male e quindi con il recupero della santità e della bellezza delle origini, la preservazione dalle malattie e la non corruzione in caso di morte o quantomeno la non corruzione orrenda diceva Gesù, quindi non è garantito a chi vive nella divina volontà che non si corrompa per niente ma non quelli orribili processi comuni di decomposizione che fanno tanta impressione a noi esseri umani giustamente insomma perché è un processo abbastanza brutto insomma a vederci. Proseguiamo ovviamente la lettura di questo brano vediamo se riusciremo anche ad aprire un altro, qualche dubbio perché il testo è abbastanza lungo ed è bene leggerlo fino alla fine. Io riprendo da dove abbiamo visto la volta scorsa quindi riprendo l'ultimo periodo e poi se Dio vuole cercheremo di andare un pochino avanti. Il regno del fiat divino farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali, tutte le miserie, tutti i timori perché essa non farà il miracolo a tempo e circostanze ma si terrà i suoi figli del suo regno con un atto, attenzione, di il miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del regno suo e questo delle anime ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali. Tolta la colpa mancherà l'alimento al male molto più che volontà mia e peccato non possono esistere insieme quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici effetti. Prima sosta loverosa perché qui oltre ad alcuni aspetti del regno del divino volere sono ribadite alcune verità di fede che anche a prescindere diciamo così dal dono della divina volontà noi che siamo cattolici ci freggiamo insomma di essere figli della della chiesa e dobbiamo avere sempre molto molto chiare. Allora per quanto riguarda il regno del fiat supremo in senso stretto l'altra notizia meravigliosa è questa sorta di miracolo continuato che sapete Gesù dice non farà miracoli a tempo e circostanze cioè in un certo momento della tua esistenza c'è questo problema e c'è un intervento divino che miracolosamente te lo risolve la guarigione da una malattia o altro ma si tratta di un miracolo continuato quindi è un atto continuo miracolo continuato finalizzato questo concetto già visto la volta scorsa alla preservazione da qualunque male e anche però a farli distinguere come figli del regno suo cioè questo stato diciamo così sublime che l'anima ha con la fusione con la divina volontà teniamo sempre presente quando si parla di questo se vogliamo rappresentarci per quanto possiamo un'idea adeguata anche se la nostra immaginazione non credo che giunga a riuscirci ad immaginarci adeguatamente è la madonna non so se qualcuno di noi pensa che la madonna prendesse il raffreddore o cose di questo genere no ecco la madonna era perfezione assoluta e Gesù poi nota attenzione tutto questo ridonderà anche nei corpi cioè qui dobbiamo fare attenzione perché la bellezza esteriore non è soltanto un fatto estetico capite ci può essere qualcuno che non è con non ha lineamenti proprio fisici eccezionali possono essere normali possono anche essere presentare diciamo qualche difetto qualche non perfetta bellezza esteriore fisica ecco però quando si vive nel di involere che questo già accade quando si vive una vita di profonda come dire fusione già con la grazia ordinaria questa bellezza traspare perché la bellezza non è solo come dire il particolare materiale diciamo così proprio fisico delle nostre fattezze no ma è un complesso la bellezza è profonda armonia quindi è ordine no quindi cioè ci sono delle persone che sono belle ma hanno per esempio lo sguardo brutto è uno sguardo sinistro ecco freddo cattivo a volte no eppure esteriormente sono come dire statuari quindi perfetti morfologicamente diciamo così no e mio modestissimo avviso il dono della di una volontà parte a comunque sicuramente influire qui lo spiega perché anche nel corpo e quindi anche nel nell'esteriore questo è un ribadire il principio dell'unità tra l'anima e il corpo anche io stamattina ho scritto un articolo che uscirà prossimamente sul settimane di padre pio e dove tra le altre cose citavo l'ultima lettera da poco uscita e approvata dal papa a firma della santa sede no la lettera si chiama e plaquite deo in questa lettera il prefetto della congregazione dell'altrina della fede condanna tra le altre cose e ammonisce da una certa visione neognostica della salvezza ecco che la riduce ha fatto o interiore oppure ha fatto meramente spirituale cioè crea una dicotomia tra l'essere umano come se l'essere umano fosse semplicemente uno spirito e non anche un corpo cioè oggi nel mondo dobbiamo anche noi e anche come figli devono volere recuperare una sana e santa teologia del corpo umano cioè Gesù qui dice una cosa molto molto importante questo nelle anime ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali cioè c'è una il famoso perdonatevi il termine un po' il ilemorfismo cioè tra anima e corpo di origine aristotelica poi abbracciato da santo maso ed è quello che ha fatto proprio l'antropologia cattolica che vede l'anima e il corpo come una unità sostanziale e per cui concepisce anche la morte come fatto completamente innaturale che non sarebbe dovuto succedere come alla madonna non è successo capite ecco perché anche nell'antologia cattolica è così importante nella mariologia perché vedere quello che quello che è stato per la madonna che era una pura creatura nessuno può dire ma questo è il figlio di dio non la madonna è una di noi è esattamente vedere quello che sarebbe stato di ogni essere umano la madonna era bellissima su questo è stato proprio tranquilli una donna vestita di soli non c'è creatura che possa neanche lontanamente competere con la bellezza della madonna certamente per le fattezze statuarie perfette dei suoi allenamenti e del suo corpo ma anche per quella straordinaria bellezza ridondante dalla pienezza di grazia dalla fusione della divina volontà e dalla straordinaria bellezza della sua anima cioè se uno vede la madonna da quello che racconta chi l'ha vista rimane estasiato guardando nelle fattezze esteriori ma se uno vedesse l'anima della madonna resterebbe centomila volte di più è come dire estasiato perché quello che ridonda all'esterno che già qualcuno insomma diceva di origine ero pagita e quando la vide dice se non mi avesse detto la fede che questa era una pura creatura sarei diventato eretico perché troppo bello l'avrei scambiata per una dea no e che non è la madonna una dea però ecco quindi c'è questa unità sostanziale cioè noi non disprezziamo affatto il corpo i cristiani non sono nemici dei cristiani sono cultori tra virgolette del corpo d'accordo noi crediamo nella risurrezione della carne noi stiamo tendendo verso il giorno di pasqua dove celebriamo cristo che è veramente risorto non è risorto nella fede o spiritualmente o è un fantasma e attendiamo scrive san paolo la redenzione del nostro corpo noi abbiamo un rapporto con la creazione nel regno della divina volontà meraviglioso cioè non è che siamo spiritualistiche alla creazione ma chi se ne importa lasciamola perdere insomma noi pensiamo alle cose dello spirito assolutamente no è chiaro che le cose dello spirito sono l'alimento di tutto no perché tutto parte dalla vita interiore e ridonda poi dappertutto cioè anche il rapporto corretto con la creazione che non si è idolatrico perché ogni cosa può essere stravolta di quelli che fanno i feticci della della creazione o adorano le cose create o pensano che dio sia confuso con la creazione come sono i panteisti eccetera eccetera no ecco quindi noi non abbiamo questo tipo di rapporto però la creazione sappiamo benissimo che non ti amo di dio dio ha scritto su ti amo sulle cose materiali nel canto degli uccellini nella nella pioggia che cade no adesso nei giorni scorsi qui ha fatto tanta tanta acqua spero che gli aspiranti figli della dina volontà non stiano sempre a lamentarsi dell'acqua ah piove ah bababà cioè figli della dina volontà appena avete il diluvio universale la prima cosa che fa è mettere subito un ti amo in ogni goccia di di pioggia e manda qualche miliardo di ti amo a dio senza fare nessuna fatica insomma no quindi andando a prendere il divino volere in quelle in quelle in quelle gocce d'acqua spero che piano piano ecco entrando in questo mondo ci 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 si abiliti a queste operazioni no quindi c'è questa capite dentro questo mondo mondo cattolicissimo io sarei dire perché tutte tante queste cose quando le ascolto quando leggo questi scritti ripenso tutte le cose che ho studiato alle eresie e a come la chiesa cattolica e dottori difensori della fede sono sempre stati dentro queste posizioni assolutamente equilibrate d'accordo quindi che non vanno né nel disprezzo del corpo né nell'idolatria del corpo non vanno né nel panteismo della creazione né nel disprezzo della della delegazione per capite cioè una persona che sporca l'ambiente adesso non voglio fare discorsetto insomma la parrocozzo insomma la predica della della domenica no che butta le cartacce in giro non si tratta semplicemente di educazione civica per carità è anche educazione civica è anche un problema di civiltà non nessuno dice dice questo no ma un figlio del divino volere non farebbe mai una cosa di questo genere d'accordo perché non si permette di andare a deturpare una cosa uscita bella dalla mano di dio attenzione una cosa uscita bella dalla mano dio che è e rimane una cosa quindi non è da adorare non è che dio si confonde con la sua creatura ma in quella creatura c'è un piccolo vestigio di dio c'è un ti amo di dio quella cosa di ora fatta per te e quindi tu l'accogli la rispetti anche nella sua come dire intrinsecità no cioè se uno si educa entra bene in questo mondo pensate anche al rispetto della della persona no oggi completamente smarrito il senso del rispetto della della persona cioè le persone si trattano a parolacce a insulti a chiacchiere a maldicenze a giornali a sparamenti a zero nel regno di involere questa roba qui guardate che non esiste proprio cioè gesù qui ha detto una cosa tolta la colpa mancherà l'alimento al male molto di più che volontà mia è peccato attenzione non possono esistere insieme e qui attenzione a tutti quanti i vari giri e alle varie possibili illusioni spirituali no io non mi stancherò di ripetere che nella mia breve esperienza anche di contatto con qualcuno non ho mancato di constatare a volte degli atteggiamenti un po troppo sia un po esaltati diciamo la sincera verità sia anche un po disordinatamente esaltati cioè io so di gente che è stata capace di andare a calunniare gravissimamente vigliaccamente il prossimo lo so per certo e ha l'illusione di poter vivere nella nella divina volontà è convintissima cioè commettendo dei peccati mortali gravissimi gravissimi sono di questo genere e poi è convintissimo si tratta di persona convintissima di vivere nel divino volere ecco perché fa l'atto preventivo e qualche altra cosa del genere no quindi attenzione cioè divina volontà e peccato non possono esistere quindi un rinnovato senso autentico di rispetto cioè tu il prossimo chiunque so sia non ne devi parlare male mai lo devi sempre adattare bene sempre cioè c'è un diritto nativo perché perché l'essere umano è il più gran ti amo che dio abbia potuto pronunciare in quanto espressione del fiat creante nel vertice perché l'uomo è il vertice della creazione ogni essere umano ogni in quanto tale ha l'anima punto quell'anima è oggetto della pupilla degli occhi di dio ma l'anima di chiunque sia su questo anche noi dobbiamo crescere anche noi cattolici ecco cioè non in un umanesimo attenzione è laico pagano illuminista d'accordo che salta l'uomo la te ha ragione l'uomo sarebbe una sorta di padre eterno in terra che chi lo sa che fa no l'uomo non è tutto questo l'uomo purtroppo si è ridotto molto male ma la sua dignità è profondamente teocentrica d'accordo oserei dire anche teandrica tutto giusto di un sacco di parolacce d'accordo teocentrica significa che trova il suo centro in dio ogni essere umano è un ha un'anima quindi è un atto creativo di dio e al sommo grado perché l'anima umana l'anima forma del corpo è uno dei prodigi in assoluto più grandi che dio abbia fatto ecco perché la chiesa sempre difeso ha lottato a favore della vita è contro l'aborto e contro l'eutanasia e contro tutti gli stravolgimenti arbitrali da parte dell'uomo non è che la chiesa sta lì a fare sempre come dire il don ferrante della situazione a fare la nemica del progresso come dice qualcuno no cioè quando c'è una vita umana in atto non si capisce più niente d'accordo perché lì c'è un'operazione divina tra le più elevate che dio abbia fatto in opera lì si devono fermare tutti quanti non soltanto che non puoi toccare la vita ma non puoi neanche toccare l'onore la reputazione il buon nome la dignità del prossimo capite cioè se si entra nel di involere certe modalità relazionali nel parlare nello scrivere articoli sui blog commenti su facebook tutte queste cose qui scompaiono cioè c'è una raffinatezza e una delicatezza soprannaturali e vuole tanto c'è un figlio di involere prima di scrivere il commento su facebook lo chiediti bene ma la madonna lo scriverebbe questo questo commento con queste parole con questi termini con questi toni se no voglia divina volontà divina volontà allora qui giusto una cosa volontà mia è peccato non possono esistere insieme non possono allora uno è evidente che dentro questo mondo deve raffinare la delicatezza di coscienza in un tasso superiore alla media se noi stiamo contando perdonatemi il termine un sacco di balle sono balle queste qua ecco quindi qui stiamo in un mondo divino le operazioni sono operazioni divine capite cioè il rispetto come dire con cui Gesù stesso tratta ciascuno di noi la madonna tratterebbe ciascuno di noi cioè ricordiamo sempre rimase impressionatissimo quando seppi che era madonna e trattava con una grandissima riverenza e delicatezza addirittura dando del voi a quella poveraccia di santa bernardetta su birù che era un alfabeta e che era abituata ad essere trattata come figlia di povera gente in un villaggio soprattutto della francia come una pezzata a piedi perché era una straccione era una morta dei fami era una poveraccia ma questo non c'è non c'è niente di di sovranatura la madonna la trattava riferentissimamente le dava addirittura del voi immaginate la faccia che aveva fatto questa qui che sentiva la madonna che le dava del voi cioè diceva che è successo qua cioè è qualcosa assolutamente di di sconcertante noi dobbiamo però pensare a queste cose dobbiamo riflettere su uno stile cioè la vita nella divina volontà è una vita divina una vita umana te esce lo sfrondone per dire staff e fai la piccola impregazione per carità un essere umano comune già che si limita una piccola impregazione non bestegna e non dice una volgarità siamo già abbastanza avanti insomma no dice meno male insomma detto solo una piccola impregazione per un figlio del divinvolere non ci accontentiamo solo di questo capito non si dice la piccola impregazione ecco perché si va se non sono tutte quante chiacchiere capito perché andare oltre andare oltre tu dici eh ma così non si campa più l'ho detto pure alla mia iniezione questa mattina ma non è ma si si campa benissimo d'accordo l'importante cioè però dice ma io mi aspetto adesso tutto avanti queste cose bene sono il figlio del divinvolere non voglio che mi viene più l'influenza non voglio che mi viene più questo non voglio che le malattie e destra stessica aspetta perché queste parole non sono bugie se entri nel regno della divina volontà cioè il tasso di adesione al bene assoluto che è la divina volontà provoca effetti completamente repulsivi cioè il male non ti può attaccare ma bisogna vedere se l'adesione è assoluta se tu stai fuso se tu stai dentro la divina volontà perché la piccola impregazione detta in un momento come atto di stizza è una piccola uscita dalla divina volontà non ci stai più sicuramente dentro e la domanda chiave è sempre la stessa ma Gesù l'avrebbe detta questa piccola impregazione la Madonna l'avrebbe detta questa piccola impregazione noi abbiamo due che hanno vissuto nel regno del divinvolere senza nessun dubbio questo penso che pure chi non crede gli iscritti di Luisa non lo farà mica mettere in dubbio no che sono Gesù e la Madonna quindi l'avrebbe fatta questa cosa no se lui non l'avrebbe fatta perché questo ti fa uscire anche nel poco quindi perché queste cose possano essere vissute noi dobbiamo starci dentro immersi fino al collo anzi compresa la testa senza neanche la possibilità di respirare l'immagine bella è il pesce dentro l'acqua quella è la vita dentro la divina volontà adesso se un pesce esce fuori dall'acqua muore subito subito d'accordo ho avuto ogni tanto qualche qualche pesciolino gioca boccheggia fuori dall'acqua oppure si fa il saltino tipo i cefaletti insomma o i delfini che gli piace giochi chiaro no ma sono saltini d'accordo proprio istantanei perché sennò poi morirebbero ecco questo è diciamo il nostro habitat vado avanti perché con 20 minuti vedo che abbiamo letto 10 righe di questo passo a Natale stiamo ancora stiamo ancora su questo scritto comunque ora figlia mia proseguo la lettura dovendo preparare il gran miracolo del regno del fiat supremo sto facendo con te come figlia primogenita della mia volontà come feci con la sovrana regina mamma mia quando dovetti preparare il regno della retenzione ritorna a questo tema una vergine la divina maria come strumento preparatorio per il regno per il regno del divino volere questo è un tema fondamentale classico degli scritti molto imbarazzante per luisa certamente che quando ne deve parlare lo fa con estrema ripugnanza però non per questo meno vero prosegue gesù la tirai tanto a me la madonna la teni tanto occupata nel suo interno per poter formare insieme con lei il miracolo della retenzione e che ce n'era tanto bisogno tante cose insieme che tenevamo da fare da parte da riparare da contemplare che dovetti occultare al suo esterno qualche cosa che poteva chiamarsi miracolo meno che la perfetta virtù con ciò la resi più libera per farla varicare il mare interminabile del fiat eterno dopo dirò qualche cosa anche su questo per forza onde potessi avere accesso verso la divina maestà per ottenere il regno della retenzione che sarebbe stato di più attenzione sentite cosa dice se la celeste regina avesse dato la vista ai ciechi la parola ai morenti oppure il miracolo di far discendere il verbo eterno sulla terra i primi sarebbero stati miracoli occidentali e passeggeri individuali il secondo invece è miracolo permanente ed è per tutti purché lo vogliono perciò primi sarebbero stati come un nulla paragonati al secondo essa fu io qui gioisco perché Gesù tessi i panegirici della madonna e quindi io vado in inestasi cosciente come dico essa fu il vero sole che eclissando tutto eclissò in sé lo stesso verbo del padre germogliando dalla sua luce tutti i beni tutti gli effetti e miracoli che produsse la la redenzione ma come sole produceva i beni miracoli senza farsi vedere o farsi additare che era lei causa primaria di tutti faccio notare senza farsi vedere o farsi additare è già ricorso prima ed era ciò che volevo riprendere lo farò appena finisce il periodo difatti tutto ciò che io feci di bene sulla terra lo feci perché l'imperatrice del cielo bella questa espressione giunse ad avere il suo impero della divinità e col suo impero mi trasse dal cielo per darmi alle creature mi trasse immagine bellissima penso sempre la la madonna che aspira proprio quasi lo tira giù no cioè io nella mia immaginazione questa è una cosa mia mi immagino la scena no come come se la madonna arrivasse con le mani fino al cielo e prendesse per le vesti il verbo a dire cioè con la sua dolce pressione dire scendi vieni vieni e alla fine il verbo resiste un po dice vengo non ce la faccio più ecco io ho questa immagine cosa del tutto personale ora così sto facendo con te ecco per preparare il regno del fiat supremo prima di passare a luisa voglio fare qualche piccolo commento no allora gesù sta dicendo una cosa molto semplice la madonna per poterlo accogliere ha dovuto vivere nella divina volontà perfettamente perché gesù non sarebbe mai sceso se non avesse trovato non soltanto una creatura immacolata concezione e una brava ragazza che vive secondo le virtù tutte le virtù senza macchia di peccato non sarebbe sceso se non avesse trovato questo lo tanta 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 lo ripeto apposta così va l'impresso vita interiore la nascosta davanti a tutti non gli ha fatto fare nemmeno un miracolo niente di appariscente l'unica cosa che si vedeva che era impossibile non vederla era la sua perfetta virtù cioè se tu incontravi la madonna e ti facevi due chiacchiere con lei non potevi non accorgerti che stavi dinanzi a qualcuno di straordinario ma non perché ci avesse l'alone di luce intorno ma perché i suoi modi il suo modo di fare era talmente divino ed elevato che tu non rimanevi estasiato questo dovrebbe capitare anche quando incontrano noi se siamo figli della divina volontà è capite non scene appariscenti ostentazioni di pseudo santità gesti eclatanti esteriori a volte affettati fatti soltanto per attirare l'attenzione ma una persona normalissima umilissima ecco cordialissima dolcissima ecco che dai modi fa capire che è impregnato di impregnato quando è completamente impregnato cioè se io metto chiappo una una spugna e la schiaffo dentro l'aceto la faccio completamente assorbire quando la tiro fuori quella sa l'aceto d'accordo da una puzza che finisce mai ecco allora se tu sei impregnato di divinità i tuoi modi sono divini d'accordo non c'è niente da fare cioè è impossibile cioè per quanto tu voglia non ostentare e non bisogna ostentare non metterti in mostra e non bisogna mettersi in mostra non attirare l'attenzione e non bisogna attirare l'attenzione però dovresti mettere dentro la campana di vetro dovresti rinchiuderti dentro un eremo perché non si vedesse niente perché chiunque ti vede si accorgerà di qualcosa in positivo in positivo e Gesù dice grazie a tutto questo lei ha fatto il miracolo dei miracoli cioè tirare il verbo incarnato il verbo dal cielo sulla terra e realizzare il miracolo dell'incarnazione ma sarebbe che cos'è è un miracolo più grande questo oppure che avessi dato come poteva tranquillamente fare la madonna le faccio vedere qualche cieco le faccio risuscitare qualche morto le faccio camminare qualche storpio a noi queste cose che ci sembrano a noi che siamo molto amanti delle dei sensazionalismi sotto tutti quanti i punti di vista capite ci piacciono tanto magari saremmo rimasti come dire sbalorditi con gli effetti speciali mi ricordo di ricordare quelle quelle pubblicità avremmo potuto sbalordirvi con effetti speciali no qui non c'è nessun effetto speciale qui ci sta assolutamente l'ordinarietà esteriore unita la straordinarietà interiore cioè io sto continuando a ripetere e mi sto accorgendo sempre di più guardate il regno della divina volontà come dire quando una persona comincia a interfacciarsi fa uscire le persone necessariamente allo scoperto in che senso se tu vuoi entrare in questo mondo tu devi imparare a relazionarti personalmente interiormente a ogni istante con dio e con dio solo cioè lì si vede per esempio la verità della tua devozione o la sua semplice esteriorità lì si vede se tu ci credi veramente o se la fede è diventata come dire una sorta di status capito di abitudine anche come dire manifestantesi in tante cose belle in tante cose devote in tante cose sante pure nella messa quotidiana pure nello stare quotidiano tutto quello che vuoi ma c'è una sostanza dietro tutto questo perché anche come dire una vita assidua cercare di capirmi bene nelle cose sacre non è sinonimo di neanche di santità comune esiste il fenomeno del bigottismo no adesso lasciamo perdere che la gente del mondo qualunque persona si avvicina un pochettino di più cosa che lo devo le fare alla vita sacramentata di subito che se sei bigotto che usa sto questo termine a destra la manca sempre e impropriamente però il fenomeno è possibile però è possibile cioè una forma di vita come dire religiosa tra virgolette o devota tutta fatta di pratiche più o meno esteriori ma Gesù questo lo dice tantissime volte negli iscritti anche nelle ore della passione no quando parla delle opere buone compiute con spirito di superbia o compiute malamente o esteriorità cioè che dice queste cose non soltanto che non mi salgono non mi danno il minimo di gloria sono dannose per chi le fa producono conseguenze negative sarebbe meglio non farle per niente ma dentro questo mondo cioè capito cioè tu non c'hai da 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 come da mostrarti da dimostrare da farti vedere da ostentare da far bella figura col padre spirituale x sono state carismatico y tutto questo mondo è costruito a mio avviso come una sorta di adeguamento sacro d'accordo dei canoni mondani siccome oggi riflettori cose sensazionali ci stanno anche cioè capire devo trovare il prete carismatico anche a me è successo qualcuno che mi sono contattato dice lei è un prete carismatico dico no no io sono un povero prete assolutamente d'accordo non c'è nessun carismatico zero d'accordo cerchiamo di fare bene il povero prete basta il povero prete normale d'accordo che fa cose normali che fa le cose che ogni povero prete normale della chiesa cattolica deve fare ci prova tra l'altro bisogna anche se le fa fatte bene oppure no cioè qui tutti i nodi escono al petto tutti a mio modestissimo avviso quindi se non altro come cioè stiamo in quaresima no sapete che la quaresima un tempo di conversione un tempo in cui tu stai nel deserto e ti devi chiedere meglio che c'è stop cioè ma io ci credo veramente a tante cose o no o è tutta una facciata ci credono stamattina durante la meditazione che sta già online c'era un bellissimo passaggio dove gesù fa un alexio sulla morte traendo dal dal desiderio di luisa che voleva morire più presto possibile per andare dal signore no e lì com'è il nostro rapporto con 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 la morte cioè la divina volontà va piano piano come dire toccando tutta una serie di di nervi vitali e ti costringe a toglierti tutte le maschere oppure a dire no bene partiamo alla grande la madonna che c'è la com'è stata la vita della della madonna san luigi un forte sua massima aspirazione era di essere completamente sconosciuta da tutti per essere conosciuta da dio solo un figlio del divino volere vive completamente davanti a dio d'accordo e cioè sta completamente polarizzato su questo non vuol dire che vive con un mezzo matto come dire alienato o fanatico o esaltato d'accordo non si mette non non lavora più non sta più con le persone saluto giorni chiuso zero non c'è niente a che vedere è un fatto interiore cioè avrà dei rapporti meravigliosi con le persone ma sono rapporti belli sono rapporti fondati sulla libertà sulla carità sul servizio cioè è tutto soprannaturalizzato d'accordo potrà avere c'è soldi usa bene non ce l'ha ringrazia il signore cioè è tutto così d'accordo allora finita questa digressione proseguiamo adesso andiamo gesù ha fatto l'esempio della madonna e poi passa a luisa no ora così sto facendo con te per preparare il regno del fiat supremo la vita di luisa piccarreta faccio io una premessa già che uno vede la foto io ho sempre detto che la prima volta che visi sì sì che mi venino che qualcuno mi trovo scritti tramite book vedo luisa piccarreta guarda una fotografia te vedo sta tonnetta vedo arrivo della dina contato avrebbe facile diventare un pochino più belli un po non proprio bellissima tutta mezza curva e che è sta roba cioè tu la vita di questo tutto il giorno dentro casa dentro il letto la notte rigidità cadaverica del giorno il confessore la svegliava seduta dentro un letto a cucir tombolo d'accordo e a sta zitta dalla mattina alla sera perché questo stava ecco la vita di luisa piccarreta la grande figlia del dinvolere a o gesù dice delle delle cose cioè che io se fossi stato in lema sarei messo sotto un autotreno ma se lo ha fatto anche lei delle delle terra insomma no gliele dice grosse adesso qui la parola c'è come con la madonna così faccio la stessa cosa con te che capirai fatto piccolo paragone cioè capite e chi era se tu l'andai a guardato ma che è sta roba questa è la grande santa questa è la grande figlia del dinvolere adesso sto caricando luisa che mi sente dal cielo capirà il senso che sto dicendo queste cose no ma anche chi vedeva la 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 madonna no adesso prescindiamo dal fatto che si era incontrava e ci facevi due chiacchiere ma toltola al contesto la madonna era una povera donna orfana di padre e di madre d'accordo sapeva manco che santo votasse come dice quando uscita dal tempio perché si è fidanzata con San Giuseppe se no non sapeva dove andare la madonna c'è nessuno quindi una povera donna di una di una borgata che c'era stava manco sulla carta geografica di Nazareth nessuno sapeva niente di lei era stata rinchiusa per 13 anni dentro sto tempio mondo manco sapeva che c'è stava questo 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 santo uomo ce n'ha avuta compassione se l'ha presa con sé dopo di che vita vissuta comunemente dentro una piccola casa noi ci abbiamo siamo fortunati noi italiani che abbiamo le mura di quella stanza bellissima in quel di Loreto una piccola casa scavata nella roccia di Nazareth a Nazareth ci sono l'incavo diciamo così dove stava la santa casa lo sposo faceva al faregnami e chi è chi è è chi è chi è ecco lei che fino a quando è stata su questa terra ha rapito il cuore di Dio ci stavano antonuti quanti gli angeli c'è tutto quanto il creato che stava in festa perché c'era la sua regina che era presente sul pianeta terra ma se vedeva niente niente io penso che uno del fascino proprio meraviglioso di questo mondo è proprio questo che tu diventi il super santo tra virgolette senza rumore o proprio questo è proprio c'è qualcuno dice forse forse vicino storia della vita forse è questo il tempo dei santi nel di involere io non sarei contento perché sarebbe uno smacco proprio è proprio il proprio l'antitesi di quello che è il mondo attuale dove se il rumore è proprio il rumore riflettori sono all'ordine del minuto all'ordine del giorno insomma allora riprendendo la lettura allora così sto facendo con te per preparare il regno del fiat supremo ti tengo con me di solare sempre ti faccio valicare il mare interminabile di esso per darti l'accesso presso il padre celeste affinché la preghi la vinca la imperi tu per ottenere il fiat del regno e per compiere consumare in te tutta la forza miracolosa che ci vuole per un regno così santo ti tengo continuamente occupata nel tuo interno nel lavoro del regno mio ti faccio continuamente ormai conosciamo questo termine no girare per rifare per completare tutto ciò che ci vuole che tutti dovrebbero fare per formare il gran miracolo del regno mio e esternamente nulla faccio comparire su di te di miracoloso se nonché la luce della mia volontà bellissime queste parole no parole meravigliose quindi cosa faceva lui dalla mattina alla sera giri atti e che cosa faceva attraverso questi giri questi atti rifaceva anche lei tutto quello che tutti dovrebbero fare per formare il miracolo del regno mio quando noi facciamo un giro ricordiamo le catechesi precedenti adesso io c'è questa sezione dei brani scelti viene dopo la preparazione no facciamo l'esempio della pioggia metto il mio ti amo signore gesù in tutta questa pioggia che sta scendendo d'accordo e quindi vado dentro la creatura e ti ringrazio per il dono della pioggia perché ringraziamo dio che piove perché se non piove l'estate c'è la siccità e ci moriamo di sete d'accordo oltre che tutto il resto delle cose la pioggia è fondamentale nell'equilibrio del cosmo metto il mio ti amo qui quindi non soltanto come atto di amore in questa creatura ma anche come atto di riparazione per tutti quelli che adesso che sta piovendo stanno bestemmiando per esempio e per tutti gli uomini che mai hanno detto un grazie per la pioggia che scende ma seppure non bestemmiano se lamentano per dire no allora il regno del divinvolere è l'ordine supremo e assoluto cioè i figli del divinvolere vedono la mano di dio dappertutto e non so boni dire nient'altro che fiat volontas tua ma sto fiat non è come dire una moda capito cioè come come se fosse non lo so uno slogan capito un anche qui anche qui una sorta di mistico manierismo d'accordo fiat cioè dire fiat dire una cosa grossa capito cioè in questo momento sta a piovere perché la divina volontà qui a sermoneta non trovo io vuole che in questo momento piova d'accordo e io mi unisco alla divina volontà dicendo fiat e metto facendo il giro nella pioggia questo è capito perché già che comincia a dire uffa piove molle andando in chiesa nel bagno già questo è una piccola uscita dal divinvolere non sto esagerando se uno capisce questo questo mondo qui non sto dicendo queste cose per rendere al prossimo la vita impossibile insomma per dire eh mamma mia mozza può manco sbuffa perché piove cioè sto spiegando un concetto d'accordo io ogni tanto magari mi vergogna a dirlo spero che di non farlo quasi più ma ogni tanto sbuffo pure io ma non si deve fare perché già fare questo qui già ma questa è una piccola uscita dalla divina volontà capite cioè i santi in paradiso c'è una frase che fiat volontà sto ogni minimo movimento che fa la volontà di dio è un'esplosione di gioia perché perché dall'assù ne vedono la perfezione assoluta cioè tu la vedi la perfezione assoluta della diluvio universale che sta facendo adesso e che a te te fastidisce perché se esci le bagni no che non la vedi non la vedi tu vedi che se esci te bagni e vorresti che non piove la tua umana volontà ma sta tranquillo che quella di oggi in questo momento a quest'ora in questo minuto in questo posto è perfezione assoluta è perfezione assoluta e non pensare che dio non ci stia in quel fatto lì è fermo restando che la divina volontà non è panteismo dio non si confonde con queste cose e al di sopra e governa tutti questi eventi qui dobbiamo arrivare questo è il regno del 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 volere capite non è una succhezza ecco e lui sa che faceva mattina sera stava continuamente a riparare a rifare a fare giri su giri su giri se faceva tutte le ore della passione tutti i giorni tutte d'accordo gira nel fiat redimente stava continuamente a girare nel creato nelle stelle nel sole nella pioggia nel vento nel mare nell'acqua nel fuoco negli uccelli nelle piante dappertutto silenzio c'è tu la tua andato andando in camera vedevi una che stava lì a come una statua ma tutta la sua attività interiore tu non la vedi non la vedi per questo sono operazioni interiori cioè io adesso sto facendo una catechesi ma se faccio un giro nel fiat creante non è che mi metta a parlare alta voce che se qualcuno mi vede mi piace scemo no cioè lo faccio interiormente lo faccio no e lo posso fare in qualunque momento cioè io sto esco con con la macchina le persone vedono un prete che si mette al volante non vedono che dentro di me io sto dicendo viene divina volontà nel mio guidare o c'è c'è il sole bene ti ringrazio signore per il sole che hai creato ci metto il mio diamo in ciascuna di due raggi ti ringrazio non si vede niente non si vede quello che si vede è un prete che sale dentro la macchina e basta per dire no questo vale per tutti gli esseri umani allora proseguo la lettura alcuni potranno dire come tanti portenti che manifesta il benedetto gesù a questa creatura di questo regno del fiat divino i beni che porterà sorpasserà creazione e redenzione anzi sarà corona dell'una e dell'altra ma la tonta di tanto bene nessuna miracolosa nessuna cosa miracolosa nell'esterno si vede in lei come conferma del gran bene di questo regno dell'eterno fiat mentre gli altri santi senza il portento di questo gran bene hanno fatto un miracolo ad ogni passo capite quello che dice no dice ma come questa porta sto portento prodigioso nella terra e se vede niente non ha fatto manco un miracolo invece gli altri grandi santi hanno fatto una marea e gesù risponde ma se si volgono indietro a considerare la mia cara mamma ancora guardiamo la madonna la più santa di tutte le creature il gran bene che racchiusa in sé che portò alle alle creature che non c'è chi può paragonarsi a lei fece il gran miracolo di concepire in sé il verbo divino nessuno sapeva che l'aveva concepito nessuno solo lei lo sapeva ed il portento di dare a dio di dare un dio a ciascuna creatura ed innanzi a questo prodigio né mai visto né sentito di poter dare l'eterno verbo alle creature ma tutti gli altri miracoli messi insieme sono piccole fiammelle innanzi al sole ora chi deve fare il più guardate che grande che è gesù non è necessario che faccia almeno cioè la madonna doveva fare il miracolo più grande che si sia mai fatto nella storia dell'umanità ma come dire perdonate non serve che faccia questi altri miracoli d'accordo e torniamo a luisa così innanzi al miracolo del regno della mia volontà ripristinato in mezzo alle creature con tutti i beni che questo porta ma tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle in gran innanzi al gran sole del mio volere ogni detto attenzione verità e manifestazione su di esso è un miracolo che è uscito dalla mia volontà come preservativo di ogni male ed è come legare le creature ad un bene infinito ad una gloria più grande ad una nuova bellezza tutta divina qui sarebbe da starci un'altra volta fino a natale cioè sta dicendo io a luisa le ho parlato del mio volere lei l'ha trascritto d'accordo oltre che a vivere la prima dopo la madonna in questo regno e capripista diciamo così oggi tante volte c'è questa ogni detto ogni minima parola ogni manifestazione sulla divina volontà è un miracolo uscito dalla mia volontà preservativo di ogni male e come legare le creature ad un bene infinito ad una gloria più grande ad una nuova bellezza tutta divina bellissimo no si legano attraverso questi scritti le creature un bene infinito alla gloria più grande e una bellezza tutta divina che non servono altri miracoli ogni mia verità sul mio eterno volere contiene la potenza e la virtù prodigiosa attenzione più che si risuscitasse un morto che si risarasse un nebroso che un cieco vedesse che un muto parlasse attenzione ogni mia verità sul mio eterno volere vadiamo contiene potenza e virtù prodigiosa più che risuscitare un morto voglio vedere chi ascoltando queste parole a questo che risulta dicendo ci crede al cento per cento prosegue perché le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat adesso spiega perché ha detto questa cosa risusciteranno le anime alla loro origine l'altro giorno leggevo uno scritto probabilmente lo leggeremo nelle prossime puntate dove Gesù diceva tranne le croci e le tribolazioni che continuano ad essere necessarie anche in questo regno perché purtroppo in questa terra è entrato il peccato e noi dobbiamo comunque lavorare per toglierlo tutto il resto della vita nel mio divino volere è anticipazione sulla terra della vita beata lo dice lui quindi se veramente non ci fosse più manco la croce e ad ameteva per esempio non ce l'aveva non sarebbe veramente una vita anticipatoria del paradiso al cento per cento quindi perché perché le anime tornano all'origine al bene perduto da damo e se non possono recuperare proprio tutto 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 per esempio togliere completamente la croce che sarà cosa che si vedrà soltanto il paradiso tutto il resto però lo recuperano quindi risuscitano le anime alla loro origine le sanneranno dalla lebra che ha prodotto la umana volontà l'umana volontà ha prodotto la lebra e la produce in continuazione le darà la vista per vedere i beni del regno della mia volontà perché finora erano come ciechi le darà parola la parola a tanti muti che perché mentre sapevano dire tante altre cose solo per la mia volontà erano come tanti muti che non avevano parola e poi il gran miracolo di poter dare una volontà divina a ciascuna creatura che contiene tutti i beni che cosa non le darà quando si troverà in possesso dei figli del regno suo ecco perciò ti tengo tutta occupata nel lavoro di questo mio regno e c'è molto da fare per preparare il gran miracolo che il regno del fiat sia conosciuto e posseduto l'attività divisa è finalizzata a due cose alla conoscenza deve scrivere queste cose e dobbiamo leggerle e meditarle per conoscerle è una conoscenza non gnostica torniamo al documento recente della congregazione al placo ideo che parla del neo gnosticismo anche ma perché siano vissute conosciute e possedute perciò sia attenta a valicare il mare interminabile della mia volontà affinché venga stabilito l'ordine creatore e creatura e così potrò fare il gran miracolo per mezzo tuo che l'uomo mi ritorna nella sua origine d'onde ne uscì ce la facciamo a chiudere oggi onde io stavo pensando ciò che sta scritto di sopra specialmente che ogni parola e manifestazione sulla suprema volontà è un miracolo da essa uscita e gesù per conformarmi per confermarmi di ciò che mi aveva detto a soggiunto figlia mia che credi tu che fu miracolo che fu più miracolo quando veni io sulla terra la mia parola il vangelo che annunciai oppure che diedi la vita ai morti la vista ai ciechi l'udito ai sordi cioè giù gli dice senti po quando sono andato sulla sulla terra le cose più grandi che sono state che ho fatto sentite che dice gesù è stato l'annunciare il vangelo e oppure dare la vita ai morti pure i miracoli gesù stesso risponde bisogna vedere cosa che cosa rispondiamo noi ma veramente perché già qui si capisce qual è la risposta giusta a figlia mia fu più gran miracolo la mia parola il mio vangelo molto più che gli stessi miracoli uscivano dalla mia parola la base la sostanza di tutti i miracoli uscirono dalla mia parola creatrice come faceva un miracolo gesù ordinatamente pronunciando una parola lo voglio si sanato sempre dalla parola vengono i miracoli cioè dal fiat la parola di gesù è il fiat manifesto espresso i sacramenti la stessa creazione miracolo permanente ebbero vita dalla mia parola la fiat e la stessa mia chiesa ha per reggima per fondamenta la mia parola il mio vangelo non esiste atto della chiesa non c'è il sacramento che non sia preceduto dalla lettura della parola di dio voi pensate che anche il sacramento della penitenza anche se per ragioni e qui dobbiamo farci un esame di coscienza tutti noi sacerdoti pratiche sendo facoltativo si bypassa ma se uno prende il rito della penitenza anche la confessione individuale di per sé sarebbe previsto prima della confessione un breve passo della parola di dio sempre sicché fu più miracolo la mia parola il mio vangelo che gli stessi miracoli i quali se ebbero vita fu per la mia parola miracolosa quindi sicura che la parola del tuo gesù è il più grande miracolo la mia parola è come vento impetuoso che corre per quote l'udito entra nei cuori riscalda purifica illumina gira e rigira da nazioni in nazioni percorre tutto il mondo gira per tutti i secoli chi mai può dar morte seppellire una mia parola a nessuno qui c'è l'eco del profeta isaia che sentiremo che sentiremo la notte di pasqua no come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo non vi ritorno senza irrigare e far germogliare la torre la terra così la mia parola la parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto senza aver compiuto ciò che desidero e senza aver operato ciò per cui l'avevo mandato e se qualche volta pare che la mia parola tace sta come nascosta esse non perde mai la vita quando meno si crede esce e gira dappertutto passeranno i secoli nei quali tutti gli uomini e cose saranno travolti e scompariranno ma la mia parola non passerà mai perché contiene la vita questo sacra scrittura no passeranno i cieli e passerà la terra la mia parola non passerà mai lo dice gesù sacra scrittura qui gesù fa ecco della della rivelazione pubblica no passeranno i secoli nei quali tutti gli uomini e cose saranno travolti e scompariranno ma la mia parola non passerà mai perché contiene la vita la forza miracolosa di colui che l'ha uscita fuori perciò confermo che ogni parola e manifestazione che ti faccio sul fiat eterno è il più grande miracolo che servirà per il regno della mia volontà qual è il grande miracolo che gesù ci parli e ci spieghi il regno del divino volere questo è il grande miracolo così come qual è il più grande miracolo che è successo nella vita tua se hai conosciuto qualcuno che ti ha letto e spiegato il vangelo questo sì sì questo questo proprio questo questo è quello che sta dicendo gesù ed ecco perché tanto dispingo e tanto ci tengo che neppure una mia parola non sia da tema di questa stata scritta perché mi vengo mi vedo ritornare un mio miracolo indietro che tanto bene porterà ai figli del regno del fiat supremo questo questo scritto davvero straordinario e meraviglioso per cui quello che ci portiamo dietro da questo uno da quest'ultima parte la fondamentale importanza di leggere gli scritti e di ascoltare se uno crede anche buone spiegazioni degli scritti quando si incontrasse la difficoltà un po come il vangelo che ci leggiamo certamente in camera nostra per conto proprio e poi quando si chiama la grazia che uno ha un buon parroco che il vangelo te lo spiega bene se c'è la grazia di un buon parroco che il vangelo te lo spiega bene ringrazio al signore ma tanto leggitelo perché comunque a leggerlo siamo tutti quanti capaci a leggere secondo comprendere che ogni parola ben assimilata che se non è sufficiente comincia a introdurre dentro di noi il regno della divina volontà questo sì questo non significa che basta leggere gli scritti per entrare nel regno del divino volere no però la lettura la comprensione è il primo passaggio necessario e fondamentale ok terzo il primato dell'interiorità se tu vuoi entrare nel regno del divino volere impara a fare vita interiore e a come abbiamo visto nelle catechesi precedenti a interfacciarti ininterrottamente con la divina volontà dentro e fuori di te quarto gli effetti straordinari che questo produce l'alimento preservativo che abbiamo visto la volta scorsa e il miracolo continuato di cui gesù ci ha parlato nella seconda parte che abbiamo letto oggi e con un ricordo fondamentale che volontà di dio e colpa non possono stare insieme quindi ci sono delle situazioni ancora non buone nella tua vita nella tua coscienza bisogna convertirsi come la chiesa ci invita a fare specialmente in questo tempo perché fino a quando ci sono delle lacune grosse o delle zone d'ombra rilevanti non siamo introdotti in questo regno perché volontà mia e peccato ci ha detto gesù non possono esistere insieme questo non sarà bisogno che ci fosse una specificazione ulteriore in questi scritti perché ce lo insegna la chiesa da duemila anni al resto anche tutte le altre cose che abbiamo ascoltate nella sostanza ci insegna la chiesa e comunque dobbiamo sempre tenerlo presente a dio piacendo la prossima settimana apriremo un altro capitolo in questo orizzonte sconfinato e meraviglioso di questi brani scelti che ci aiutano adesso che abbiamo finito un po la parte diciamo teorica a comprendere delle caratteristiche delle applicazioni concrete e delle grazie connesse con il regno della divina volontà do la mia benedizione a tutti e appuntamento per chi lo crede alla prossima settimana fiat ave maria grazie a tutti 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 Grazie a tutti.